Parte oggi dalla scuola primaria Chiara Lubic di Pesaro, una importante operazione di educazione alla sostenibilità e all'ambiente portata avanti da Comune di Pesaro e Marche Multiservizi. Due enti che congiuntamente doneranno 800 borracce per sensibilizzare all'uso dell'acqua del rubinetto, un'acqua buona, certificata, sicura, come è verificato anche dall'ultimo report di Marche Multiservizi. Una donazione ai bambini cominciata oggi dalla scuola primaria Chiara Lubic con gli alunni della classe prima che hanno ricevuto le prime 70 borracce, così come le bottiglie che sono state donate agli insegnanti anche per sensibilizzare all'utilizzo delle casette dell'acqua. Oggi partiamo dalla Lubic con un'iniziativa che riguarderà tutte le scuole della città riservata alle classi prime della primaria e sarà un'iniziativa ed è un'iniziativa legata all'ambiente e alla consapevolezza. Abbiamo pensato io e l'assessora Morotti insieme a Marche Multiservizi cosa si potesse fare come rito di passaggio nella scuola dei grandi e abbiamo pensato che l'autonomia legata anche al consumo dell'acqua fosse una delle prime autonomie in cui i bambini sono chiamati a essere protagonisti in prima elementare. Da qui nasce il bel rapporto con Marche Multiservizi che ha sposato la nostra idea di fare un regalo a tutti i bambini della classe prima e nascono queste borracce che sono sostenibili con materiale riciclato e sostenibile e quindi a impatto zero per l'ambiente insieme a un questionario che abbiamo donato a tutti i bambini da fare in classe o con i propri genitori e in più anche un pensiero per gli adulti, per i docenti e per il personale sono state pensate dei cestini con delle bottiglie che possono essere riempite nelle casette dell'acqua. Un'azione concreta per parlare di ambiente e per renderci anche protagonisti di un ecosistema sempre più sostenibile. Sensibilizzare sull'utilizzo dell'acqua del rubinetto che è un'acqua buona, è un'acqua che va consumata perché ha tutta una serie di caratteristiche. Intanto la sicurezza, la garanzia che Marche Multiservizi vuol dare ai consumatori è quella dell'analisi. Vengono realizzate oltre 160 analisi al giorno, quindi tutte che rispettano i parametri di conformità, per cui è un'acqua buona che va consumata per i motivi che sappiamo tutti ormai. Quindi quello del risparmio economico ma soprattutto quello della sostenibilità ambientale, quindi della riduzione del consumo di plastica. Si parte dalle scuole perché bisogna sensibilizzare i ragazzini, i bambini dai primi anni di età. Lanciando anche un altro messaggio è quello dell'importanza della risorsa acqua, quindi ci deve essere un approccio anche culturale che cambia rispetto all'acqua perché abbiamo visto le problematiche che durante i mesi estivi, la siccità che crea, quindi la difficoltà sempre maggiore dell'approvvigionamento, l'acqua non va sprecata ma va gestita in maniera responsabile.